I pazienti residenti in Sardegna in attesa di trapianto del polmone o già trapiantati fuori dal territorio regionale saranno seguiti nei centri specializzati dell'isola per l'intero percorso pre e post operatorio e quanto previsto nella convenzione siglata tra le regioni Sardegna e Piemonte per tutti i pazienti dell'isola assistiti dal centro trapianto dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni Battista di Torino, Le Molinette. Si tratta di un accordo importante per diversi aspetti, ha dichiarato l'assessore regionale alla sanità Marioniedu. Oggi nei centri di eccellenza della Sardegna si eseguono i trapianti di cuore, fegato e rene o trapianti combinati di fegato rene e rene pancreas. I pazienti che devono entrare in lista o che sono già in lista per un trapianto di polmone o che hanno già subito questo tipo di intervento fuori dall'isola sono costretti a continui spostamenti per poter seguire il percorso ma grazie all'accordo siglato prosegue l'assessore e alla collaborazione con l'ospedale delle Molinette adotteremo all'interno dei nostri centri uno specifico percorso diagnostico-terapeutico assistenziale che consentirà ai cittadini in attesa di trapianto di polmone o già trapiantati di avere in Sardegna tutta l'assistenza che serve e quindi di doversi recare a Torino solo per la fase operatoria. Abbiamo scelto la collaborazione con l'ospedale di Torino perché è estremamente specializzato nel trapianto di polmone e il numero elevato di interventi realizzati ogni anno è una garanzia per i tanti pazienti sardi in attesa. L'accordo prevede che i polmoni prelevati da donatori nell'isola vengano destinati prioritariamente al centro piemontese. Questo aumenterà la possibilità che anche i pazienti sardi in lista possano vedere accorciare i tempi d'attesa per il trapianti, conclude così l'esponente della giunta Solinas.